ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi voglio fare un video tag dedicato al cinema l'anno scorso quando ho aperto il canale avevo già fatto un video tag simile che si intitola indiscrete domande cinematografiche e ve lo lascio ovviamente linkato nelle schede e mi era piaciuto molto però ha delle domande diverse rispetto a questo quindi quando ho visto questo ho pensato di farlo così vado a completare anche l'altro questo in particolare l'ho visto sul canale è la stanza di scarlett vi lascio il link al suo canale in infobox ma se non ho capito male il tag è stato ideato da saramagic15 e anche del suo canale vi lascio il link in infobox parto subito con la prima domanda da quanto tempo sei appassionata di cinema io sono sempre stata appassionata di cinema da quando sono nata mi è sempre piaciuto andare al cinema ho sempre guardato film molto volentieri quindi è proprio una cosa che ho da sempre seconda domanda qual è il tuo genere preferito? thriller sicuramente thriller è in cima alla classifica però devo dire che vado a momenti perché ci sono dei momenti in cui magari guardo un film drammatico un film di guerra un film commedia quindi vado molto a momenti però di solito il genere thriller è sempre in alto in cima alla mia classifica terza domanda vai spesso al cinema? dunque dipende anche questa è una cosa che va molto a periodi ci sono dei periodi in cui ci vado tantissimo anche una volta a settimana e dei periodi in cui ci vado molto poco perché magari tra una volta e l'altra passano mesi questo è uno di quei periodi ci sto andando veramente pochissimo e mi dispiace perché è una cosa che comunque mi piace fare però in questo periodo insomma è andata così vado avanti con le domande preferisci i film in 2d o in 3d? io preferisco i film in 2d per un semplice fatto perché il 3d mi fa girare la testa quindi mi dà proprio fastidio a livello fisico ho visto un solo film in 3d the christmas carol che era stato un film che mi è piaciuto tanto e anche l'effetto 3d comunque mi era piaciuto però purtroppo ho avuto dei malesseri fisici perché mi girava la testa quindi il 3d io non riesco a guardarlo quinta domanda il primo e l'ultimo film visti al cinema il primo film che ho visto al cinema credo che sia stato cenerentola ero molto piccola mi avevano portato al cinema i miei genitori e mi ricordo comunque che mi piaceva molto anche da piccola andare al cinema soprattutto andavamo a vedere appunto queste fiabe della disney perché comunque ai miei tempi non c'erano i dvd quindi dovevamo andare al cinema e se non mi ricordo male il primo in assoluto è stato cenerentola invece l'ultimo che ho visto che risale a qualche mese fa è stato a casa tutti bene è un film che mi è piaciuto avevo scelto io di andare a vederlo perché comunque mi attirava molto la trama anche se devo dire che mi ha lasciato un po di inquietitudine poi magari farò un video in cui ve ne parlo di questo film perché in effetti mi ha colpito molto su certi temi soprattutto però adesso non mi dilungo altrimenti non finiamo più tendi a vedere più volte un film che hai già visto? lo facevo in passato quando ero più giovane mi succedeva di vedere un film tantissime volte invece adesso devo dire di no i film adesso li guardo una volta massimo due e poi di solito non li riguardo quindi è una cosa che non mi capita più ma in passato si lo facevo settima domanda tra cast, regista e trama quale ti spinge di più a vedere un film? la trama sicuramente io mi baso solo ed esclusivamente sulla trama se mi attira quella è difficile che io poi vada a vedere il regista, il cast ovvio se mi piace anche il regista e mi piace il cast tanto meglio però è comunque una cosa sulla quale mi baso pochissimo mi deve piacere la trama ottava domanda compri i dvd dei film che ti sono piaciuti di più? no è molto difficile che io compri i dvd di un film ho il dvd del mio film preferito che è via col vento quello l'ho voluto avere perché comunque è veramente il mio film preferito e quindi quello non poteva mancare però io di solito i dvd non li compro ho alcuni dvd originali che mi sono stati magari regalati mi ricordo ad esempio che mio papà mi aveva regalato il dvd di cenerentola perché è sempre stata la mia favola preferita quindi comunque mi aveva regalato il film quando era uscito quello restaurato però poi generalmente io non ho tantissimi dvd ne ho abbastanza pochi in realtà hai dei film preferiti? ecco appunto ne stavamo parlando proprio adesso sì ho dei film preferiti quello preferito in assoluto è via col vento però ho anche altri film preferiti ad esempio un nuovo cinema paradiso risvegli che è un film veramente particolare se non avete visto vi consiglio di andare a vederlo poi ho altri film preferiti che adesso non mi stanno venendo in mente però sicuramente ce ne sono altri sì ecco mi è venuto in mente un altro film l'ultimo samurai è un film che mi è piaciuto tantissimo ma ce ne sono altri se dovessi farvi tutto l'elenco sarebbe veramente un lungo elenco sì comunque ce ne sono poi ultima domanda se un film ti piace inciti le altre persone a vederlo dire che le incito a vederlo no perché comunque non è che sono lì a dire alle persone andate a vedere questo film però se un film mi piace mi è piaciuto magari mi capita di parlarne mi capita di consigliarlo di dire qual è la mia opinione però senza insistere comunque perché gli altri vadano a vederlo mi limito a parlarne a dire che mi è piaciuto e magari consiglio di vederlo però finisce lì era l'ultima domanda io taggo tutti gli appassionati di cinema e tutti quelli che se la sentono e hanno voglia di fare questo tag vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mi raccomando andate a vedere anche l'altro tag che ho fatto sull'argomento lo trovate nelle schede mettete un bel like se vi è piaciuto il video vi mando un bacio enorme e ci vediamo alla prossima e ci vediamo alla prossima